Non è che dire, non ci fermiamo perché le note Champions sono quelle che ci devono caricare. Intanto ci riguardiamo uno a uno. Sì, 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 sì. Oh! Si parte con Barucci. Avanza. Prova a pennellare la pallona per Manto. Bello! Oh! L'ha fiondata! Provatemi a dire che non è a rigore questo qua. Fa il portiere. Eh, guarda tu. Di, 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 di. Così! Di, 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 di. Bene, bene. Grande primo tempo della Juve. L'1 a 0 ci va anche stretto. Grandissima Juve nel primo tempo. Siamo a metà, a più di metà dell'opera. Vamos Juve! Eccolo qui, il fischio finale. Tutti in piedi. La Juve strappa veritatamente. Quarti di finale. Vamos Juve! Fratelli e sorelle, buonasera a tutti. Bentrovati. Benvenuti in questo mio nuovo video. Faccio subito al caldo, subito, il video post Juventus Porto. Un saluto a tutti gli affezionati di YouTube. Anche e soprattutto ovviamente a Marcello Chirico e a tutti i fratelli e sorelle Juventinazzi di Topland. Ciao da parte del vostro postman. E quindi quarti di finale. Dopo un grande primo tempo giocato dalla Juve. Concretizzato al 42esimo con il rigore sacrosanto. e l'espulsione sacrosanta del giocatore del Porto. Rigore trasformato da Dybala. È stato quello il gol vittoria finale. Una ripresa nella quale la Juve ha condotto una saggia amministrazione del pallone e delle forze. Due piccoli svarioni difensivi sui quali comunque Buffon ha messo una bella pezza coprendo bene lo specchio della porta. Quindi voliamo ai quarti. Vedremo venerdì quale sarà il nostro destino europeo. Come dico sempre. Rispetto per tutti. Paura di nessuno. Buonanotte a tutti. Permettimi Marcello un saluto particolare al fratello Ronni Ramadori di Morrovalle. Che oggi pomeriggio mi ha espresso belle parole di stima. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti e fino alla fine. Vamos Juve! Ciao Marcello! Ciao! 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 Grazie a tutti.